Il Bidello Il Bidello dell'ultima ora, quindi il mio compito è semplicemente accompagnarvi in questa stanca conclusione di mattinata verso la messa, che sarà invece un momento di gioia. Vero. Sono contento, capite che scherzo, perché qui veramente, come mi ha detto qualcuno, io dicevo, ma sapete che ho fatto vari convegni con la CEI, ma a quelli della famiglia mi diverto. E lui mi ha detto, beh, ma qui c'è la vita. È vero, ci sono i bambini. E questo non dimentichiamolo, no? È molto evangelico la gioia che portano i bambini. Fatto questo cappello vi dico subito di cosa non parlerò. Non parlerò di quelle cose tecniche su cui sarebbe bello magari intrattenerci, magari se qualcuno di voi viene a qualche iniziativa della pastorale scolastica o delle associazioni scolastiche. Non parlerò del documento sulla buona scuola del governo Renzi, che è stato aperto per due mesi all'input, per così dire, del popolo. Non parlerò delle forme di governance che andrebbero ripensate, no? L'ingresso degli studenti nella scuola è stato formalizzato 40 anni fa con i decreti delegati del 74. È un meccanismo che mostra l'usura del tempo in modo a volte preoccupante. Invece parlerò di tre brevi considerazioni. La prima. Oggi scuola e famiglia hanno bisogno l'una dell'altra. Perché? Perché fanno parte dello stesso progetto generativo. Ma anche per un'altra ragione. Perché sono ai margini. Dove ho studiato io si studiava Gramsci a piene mani. E ricordo che Gramsci diceva che bisognava controllare la società civile. Che significava? Le università, la magistratura, le case editrici. Gramsci non si è mai occupato né di scuola né di famiglia. Poi alla scuola ci si è arrivati perché se controlli un'università formi i professori e i maestri. Però è interessante che queste due istituzioni sono ai margini del nostro modo di pensare. E allora verrebbe da dire, no? Con una saggezza così molto spicciola non facciamo le guerre tra poveri, mettiamoci insieme. Questa però a mio giudizio è un'idea così, appunto, spicciola, povera. Invece mi piace pensare che scuola e famiglia hanno bisogno l'una dell'altra perché sono due istituzioni, due fuochi nella nostra società che costruiscono quella che viene chiamato l'atteggiamento generativo. è una parola che è diventata molto di moda oggi. Ma atteggiamento generativo significa capacità di costruire un futuro. Cosa che, badate bene, non dipende dagli economisti. Ornaghi, direttore della Cattolica, poi ministro, la chiama la scienza triste, l'economia. Effettivamente, non so se loro sono tristi, ma portano tristezza. Non dipende dagli economisti, non dipende dal decidere se dare 80 euro o meno ai pensionati. Tutte cose interessanti, che vanno bene per i dibattiti. Però il futuro dipende dal fare bambini e mandarli a scuola, trasformarli in adulti. E c'è una ragione profonda di questo rapporto tra scuola e famiglia. E' quello che Recalcati chiama la scuola come estensione. Non so se avete visto il libro di Massimo Recalcati, l'ora di lezione, questo ennesimo successo editoriale. E Massimo dice, la scuola è l'ideale prosecuzione della funzione paterna. Che nel linguaggio della psicoanalisi significa, a scuola si impara a conoscere il mondo. C'è un gran mondo là fuori, fuori dalla famiglia, e la scuola te lo fa incontrare. E allora bisogna collaborare. Perché questo mondo, lo sappiamo bene, permettetemi di citare Sergio Leone, è piccolo e anche tanto cattivo. Cioè, è grande, ma al tempo stesso è piccolo, perché è pieno di gente che non ha, come dire, tutta questa buona volontà. Quindi bisogna sapersi orientare in questo mondo e bisogna saper costruire fiducia. Non di fidenza. Non di fidenza verso chi è cattivo, ma fiducia verso chi è buono. E queste sono le altre due parole di cui vorrei parlarvi. Orientamento e fiducia. Orientamento è una cosa che possiamo pensare in modo molto tecnico. Però, in prima istanza, orientamento significa sapere da che parte andare. Chi sa orientarsi va in una nuova città e con poche informazioni trova la sua strada. È molto più importante sapersi orientare che avere il navigatore giusto. Perché se va via la corrente o si scarica la batteria, chi sa orientarsi trova la strada. Capite che questa metafora, non ci vuol tanto a capirlo, è molto importante per noi. E' veramente molto importante oggi costruire criteri di orientamento. Non tanto costruire noi il percorso dei nostri figli e dei nostri studenti, che poi sono le stesse persone. Ma aiutare loro a trovare la loro strada. Quindi dar loro delle modalità di esplorazione. Come in oratorio ci si confronta con la comunità, così a scuola, nell'università, bisognerebbe confrontarsi con il sapere. Con un sapere che non è fermo, ma che anche nelle sue difficoltà e nelle sue aporie viene presentato. Perché orientarsi significa anche aprirsi. Io non so quello che trovo. L'apertura al maius, al di più di cui parla Papa Francesco. Questo significa orientamento. Io non ti do una ricetta. Ti dico da che parte è il nord. Poi sei tu che devi fare la tua strada. E prendi le tue decisioni. Anche per questo, per provare a capire di che cosa si parla quando si parla di orientamento, l'ufficio scuola, che qui rappresento, a nome anche del direttore, del dottor Vittorio Sozzi, che vi saluta, vuol lavorare su questa questione. Stiamo pensando di organizzare un'iniziativa che potrebbe avere a tema la questione dell'orientamento. Che capite, non è solo una questione di scelta della facoltà universitaria o della scuola superiore. Anche perché questa scelta spesso viene fatta su parametri economici che sono assolutamente fuorvianti. È stato il boom di scienze politiche, poi di scienze della comunicazione. Oggi c'è il boom degli alberghieri, che sono le uniche scuole che triplicano le iscrizioni. Tutti vogliono fare il grande chef. Poi tra qualche anno, quando avremo centinaia di camerieri semidisoccupati, si tornerà a pensare che, non so, le commerciali o il classico o legge o medicina. Dobbiamo stare un po' attenti a queste mode, che non significa che noi non siamo una nazione di grandi chef, come una volta eravamo santi, navigatori ed eroi. Però proviamo un pochino a pensarci. L'altra parola è fiducia. Qui, secondo me, dobbiamo muoverci con un po' di attenzione. Io ho sempre un po' di preoccupazione quando parole come fiducia, speranza, amore diventano parole del dibattito politico. Pensate a quello che è successo nel 68, il sesso, la rivoluzione sessuale. Una parola è diventata un messaggio politico. E il risultato è che oggi siamo al gender. Oggi noi vorremmo parlare di sesso. Le stesse persone che 40 anni fa, 50 anni fa, erano accusate di non volerne parlare. E invece bisogna parlare del gender. Perché non basta più neanche il sesso. Quando una parola viene consegnata a un progetto politico, rischia di morire con quel progetto politico. Perché viene consegnata spesso a un'ideologia. Il gender è un'ideologia. Dovremmo applicare al gender le stesse astuzie che abbiamo imparato ad applicare nei confronti di altre ideologie. Nazismo, marxismo. È esattamente la stessa cosa. Allora, oggi, parlare di fiducia o di speranza significa che dobbiamo fare sostanzialmente due cose. La prima, c'è un termine tecnico, la chiamiamo alleanza educativa. Basta col fatto che i genitori parlano male degli insegnanti e gli insegnanti parlano male dei genitori. I figli sono studenti e gli studenti sono figli. Quindi ci si trova tutti insieme a fare il nostro dovere di adulti. La nostra responsabilità di adulti. E poi l'altra è la cura reciproca. Perché la cura, di nuovo, è espressione di fiducia. Io mi preoccupo di un altro che faccia bene, che stia bene, perché ci tengo. Onestamente, se non me ne importa niente, non mi preoccupo neanche, che lui faccia bene. Che significa cura? Qui, ovviamente, parlando a pastore familiare, mi rivolgo soprattutto al lato dei genitori. Significa avere a cuore la qualità dell'istruzione. Ieri, a pranzo, una persona con cui Pazzone mi ha fatto proprio ridere, riferendo che una professoressa a scuola, al figlio, alla figlia, non ricordo, ha detto, ah, quest'anno Pasqua capita di domenica. Notevole. Insomma, pensiamoci. Chissà se anche il prossimo anno succede. Ecco. Allora, se arriviamo a questo, ma di questo ovviamente potremmo riempire ore e ore di battute, giusto? Il problema, però, non è solo riderci, è che una persona che dice una cosa del genere o ha dei problemi, quel giorno ha dormito male, ha assunto troppe sostanze psicotrope, non lo so, oppure non si rende nemmeno conto di qual è il mondo in cui vive. Considerando che dovrebbe insegnare il mondo, quello di cui parlavamo prima, ai nostri figli, c'è un problemino, e allora forse è il caso di lavorarci un pochino con questa persona. Accompagnandola, come diceva Don Enzo, non è che bisogna solo denunciarla al provveditore, ma andarci a parlare, provare a capire com'è che questa persona non ha proprio la bussola. Poi favorire l'incontro con il reale, non con l'ideologia. Qualche settimana fa abbiamo incontrato, io, Don Michele, Don Enzo, Don Paolo, Nando Pagnoncelli, il direttore, il presidente di SIO, anzi, di Ipsos Italia. Lui diceva che da una ricerca internazionale, 14 paesi, l'Italia è il paese al mondo dove c'è più distanza tra come stanno le cose e come gli italiani se le immaginano. Il che, onestamente, non mi sorprende. Noi siamo stati un paese fortemente ideologico, e l'ideologia è proprio questo, è sostituire un'immagine del reale al reale. L'ideologia in teoria sono finite, in teoria, ma la forma mentis, cioè le cose non stanno come stanno, ma stanno come io penso che stiano, questa è rimasta. E così noi viviamo nella dittatura delle opinioni. Questo è il paese, in teoria, dove c'è il Papa, è il paese più cattolico del mondo, è il paese che ospita in prima serata, una cosa che ha fatto molta polemica, un gruppo di femministe che fanno una sorta di preghiera, insomma, che si potrebbe anche definire blasfema, non lo dico io, a essere liberati dalla religione. Uno dice, ma com'è possibile? E' perché questo è un paese in cui l'ideologia, come modo di pensare, ha avuto la meglio. Ma io non dico questo per fare polemica, intendiamoci. E' che dobbiamo renderci conto di che cosa viene insegnato ai nostri figli. E questo è un dovere costituzionale. La cura dell'educazione dei figli spetta alla famiglia. Ci sono tutti gli spazi perché voi entriate nelle scuole. E guardate che, anche se gli insegnanti all'inizio si stressano un po', non vedono l'ora di incontrare qualcuno che abbia veramente a cuore l'educazione. Io sono figlio di insegnanti, mia moglie è un'insegnante. Vi posso dire che le cose stanno così. E poi, se mi consentite, l'ultima cosa veramente importante è portare la famiglia a scuola, che significa portarci la vita. Portarci la vita significa rendersi conto che abbiamo una scuola molto istituzionalizzata, con modelli che sono sostanzialmente quelli di un'epoca precedente, neanche della Prima Repubblica, ma di un'epoca ancora precedente, e che ha bisogno di ritrovare autonomia, slancio, flessibilità. Questo, guardate, non aspettate che lo facciano i sindacati, il ministero. Questo lo dovete fare, lo dobbiamo fare noi come famiglia. Questo, a mio giudizio, è concretamente portare la famiglia a scuola. Però tutto questo, la cura, la fiducia, l'orientamento, la speranza, noi, secondo me, possiamo veramente capirlo solo se guardiamo, come dire, lontano. C'è una citazione, la parola speranza o speranze compare 28 volte in Evangelii Gaudium, c'è una citazione che non sempre viene ricordata, dal numero 181. La vera speranza cristiana, dice il Papa, che cerca il regno escatologico, che cerca il regno escatologico, genera sempre storia. Se vogliamo generare storia, cioè generare un percorso, un processo umano nella realtà, dobbiamo guardare il regno escatologico. Perché solo questo farà sì che la nostra speranza continui a essere nostra, non diventi un programma politico.